Beh, qui direi che non c'è niente da recriminare a nessuno, quindi si può tranquillamente andare. E c'è un cazzo viola! C'è veramente un cazzo viola, ma in realtà sembra più... ...il lubrificante della Durex al mirtillo, però... Vabbè. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Finiremo qui. Questa campagna di GTA IV, e ovviamente finiremo qua anche le espansioni, nella mia vecchia stanza. Nella stanza che più o meno ci ha accompagnato da aprile a giugno 2021, quando appunto mi trasferì al mare in Toscana e ho lasciato Roma per un mese. Sono tornato nel mio paese in Toscana e quindi ovviamente ho portato tutta l'attrezzatura dietro necessaria per finire la campagna qui in santa pace. Vi chiedo ovviamente like, iscrizione e tutto quanto, le luci purtroppo non sono quelle che ci sono nello studio a Roma. Purtroppo potete vedere che le luci sono abba giù improvvisate, quindi purtroppo c'è questo problema, ma questo non ci esime da fare una storia di GTA come Dio comanda. Like, iscrizione al canale e noi andiamo direttamente a Liberty City. Ok bene, dovevamo andare da Phil Bell, Filippo Bello. Una volta era un re di Francia. Adesso è un personaggio di GTA 4, però a noi sta bene così. Allora, ci vorrebbe... Come sempre vengo qui per cercare il taxi e non posso neanche rubare una stronzissima macchina per il semplice motivo che c'è la polizia e di rotture di cazzo non ne ho voglia. Qui nella situazione si sta facendo tosta. Al GTA 5 ci sarebbe il chiama taxi, qua non c'è. Tipo... Il 3570 di Roma. Però c'è uno qui, quindi colgo la pola al balzo e lo chiappo. Bravo, vai dietro. Allora, è divertente perché... È proprio il contrario di GTA 5, cioè GTA 5 premi triangolo e entri come passeggero. Qua devi tenere premuto. Altra cosa, se vedete le missioni per Bernie, è perché dalla missione numero 80, che mi vedete con i capelli più corti, in un altro studio, sono passati diverse settimane da quando ho registrato la 79 all'80. Il motivo è che ho perso un salvataggio, ho sovrascritto per sbaglio, e ho perso tutta la campagna che avevo registrato fino alla 79, quindi mi sono dovuto da solo rigiocare tutto fino a questo punto. E non seguendo l'ordine che ho pubblicato su YouTube, ragazzi, qualcosa mi è sfuggito, quindi perdonatemi. Anyway, Phil Bell con 3 spas. Tra l'altro avevo registrato anche qualche missione in più. E oltre a quello ho anche perso le clip, quindi proprio due danni insieme. Per fortuna la cazzina non è durata così tanto, che succede la grafica, non lo so. E andiamo. La fabbrica sprank. Choppi Charlie. Io mi auguro di sto gioco facciano il remake per PS5 nel 2023 per il quindicesimo anniversario. Farò tipo il preordine subito, sarò il primo a comprarlo. E chissà quasi quasi, sottolino il quasi quasi, portarvi la campagna su YouTube fatta anche su PS5, insomma. Stugazze. Comunque sapete che io ci tengo tantissimo a sto gioco, è il mio preferito, ma ormai lo sapete da mucchio. Dopo Assassin's Creed 2, ovviamente. Sono i giochi con cui praticamente sono cresciuto. Trova a Chabby Charlie. Ah, Chabby Charlie era il nome del ciccione, perché... L'ha nominato per nome, però nel sottotitoli c'era scritto il ciccione. Magari poi ho letto male, eh. Tresfa, strapasso, quello che ti può fare adesso il proiettile nel tuo petto. E qui direi che non c'è niente da decriminare a nessuno, quindi si può tranquillamente andare. E c'è un cazzo viola. C'è veramente un cazzo viola, ma in realtà sembra più il lubrificante della Durex al mirtillo, però... Vabbè. In questa mappa c'è pieno di questi cazzo viola! E uno mi sta per entrare nel culo! Ah! Ah! La sorpresina sti bastardi mi hanno fatto, eh! Adesso tipo un po' di stronti, c'è fu anche il giubbotto! Ok, io se continuo così muoio tipo subito. C'è un giubbotto lì. Devo arrivarci senza morire. Che bello che nel frattempo ho giocato a metà campagna di GTA V e RPS 5. E ricordiamoci, ragazzi, che GTA IV non è un giubbotto che palle. È tipo... Eccolo qui. È il triplo più difficile di GTA V. Cioè, GTA V è veramente un gioco alla portata di tutti. Ovviamente, se chi ci impegni, anche GTA IV lo è! Troppete i coglioni. Però, a livello di difficoltà, cioè... Ripeto, GTA IV l'ho finito a undici anni, quindi non è che fosse così difficile. Però, nel complesso, devi impegnare di più a GTA IV. Se proprio anche non vuoi mai morire e cose del genere. Tra l'altro, l'ultima volta che lo completai su PS3, mi ricordo. Tanto non t'ho visto. Feci tutta la campagna, tutte le 90 e passa missioni senza mai morire. Sono morto guardando i numeri. Molte più volte, questa volta, su PC. Zio, io devo prendere lui, però. Mi cambi il bersaglio. Non l'ho preso. Ora l'ho preso. Sta pinando al coppino. Vieni. Con calma, con calma, con calma. Tanto... Non scappi. Testa. No, niente testa. Vabbè, lo finiamo così, dai. Tanto non ci sono gli obiettivi, per fortuna. Vieni, Chubby Charlie, vieni. Non è qui. Vabbè, te... Non si è cascato. Voglio che caschi, voglio che caschi, voglio che caschi, voglio che caschi, voglio che caschi. Che caschi e non cascherei mai. Sì, vabbè, te. Ciao, proprio. C'è, con le mani, con il culo. Con il pisello, ciao, ciao. Chi m'ha colto? Chi mi ha ricolto? Kit medico, d'oro. No, perché non... Yes, I'm enjoying myself, ma... Perché non l'ho potuto prendere? Devi prendere la scala, coglione. Eh, no, 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 aspetta, 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 aspetta. Aspetta, facciamo le cose con calma. Facciamo le cose bene. Come cazzo fa a cogliermi? Ti ho pigliata qui, ho capito. Vai. Finito. Ho aperto tutto il giubbotto. Che palle. Ok, adesso è via libera. Il triangolo oggi è dei problemi, ho capito. Amoe, dove sei? Amoe. Amoe. Vieni qua che ti vizio. Ecco ti, stronzo. Ecco ti, stronzo. Sì, però io non... Ci posso mettere cento anni. Ah, lo stanno venendo a prendere? Che bello. No! Ho finito le munizioni. Ok, si fa prima così. Ah, non voleva che Chappi Charlie morisse. Voleva proprio che l'elicottero esplodesse. Ok, adesso penso. Però mi rodassa il culo che... Siano finiti i proiettili del fucile d'assalto. Anche perché adesso ci tornerà molto utile. Grazie per avermi dato 10.000 per una missione così. E adesso devo scendere. Dimmi che c'è un modo per scendere, per favore. Beh, great work. Lo so che è great work. Più che altro adesso mi tocca scendere. Che palle. Non ti azzardare. Ok. Ok, tutto molto bello. Ma qui una scaletta non c'è? Forse era qui se non vado errato. Bravo. Ah, perché non vorrei perdere la vita adesso. A parte, vabbè, che se muoio... Può comporta perché... Missione è finita, però... Mi scoccerebbe per le statistiche, ecco. Dimmi che... Che culo. Che buscio di culo. Che culone. Lo facessi nella vita reale? Perderei le mani seduta stante. Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamocene al rifugio. Il quartiere di Alderni, ragazzi. Mi sa veramente... Mi spiace dirlo, ma mi sa di poco. Non so perché... Comunque ci siamo. Ok, ragazzi, vi saluto. Like al video, iscrizione al canale. Noi ci vediamo per la missione numero 81. Che sarà per Jimmy Pegorino. Bacione, ragazzi. Alla prossima, da dire tutto. Alla prossima, da dire tutto.